Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo al nostro appuntamento con Open Data in Action. Oggi, sempre continuando con il modulo di data giornalismo che ha inaugurato ieri Nicola Skyverbrill, parleremo di come utilizzare i dati di Open Data, di Open Coesione per raccontare un po' il proprio territorio a livelli diversi, sia con vari strumenti. Abbiamo qui Alimpenisi, che fa parte appunto del Comitato Scientifico di Open Coesione, e Andrea Zetta, che è di Code e Solution. Adesso partiremo proprio con un workshop pratico, dopo una breve presentazione dello strumento, che appunto durerà tutta la mattinata fino alle 3. Buon ascolto e diamo la parola ai nostri docenti. Grazie Chiara. Ciao a tutti, da Andrea. Allora, la giornata di oggi noi stiamo cercando di dare a tutti quanti, chi ci seguirà da casa, chi ci segue oggi adesso in aula, una serie di strumenti per poter facilitare l'elaborazione di dati in una chiave di analisi e di data giornalismi e di racconto di storie. Lo facciamo a partire da una piattaforma molto ricca di informazioni che è quella che offre il progetto Open Coesione sui finanziamenti di investimenti pubblici per la politica di coesione in Italia. Cerchiamo di mettere questi dati insieme con altre fonti di dati disponibili in formato open a tutti, illustrandole diciamo un po' e incrociandole. E vi facciamo vedere degli esempi di storie che si possono costruire assieme a questi dati. Lasceremo anche una serie di materiali che possono essere riutilizzati, delle presentazioni, che vi aiuteranno a seguire passo passo le elaborazioni che si fanno utilizzando strumenti, anche questi che sono totalmente open, come Open Refine e come Open Office. Quindi lo scopo è di darvi degli strumenti e di darvi degli esempi. Iniziamo dandovi una serie di elementi che riguardano una delle piattaforme di dati aperti abbastanza recente e molto ricca, quella delle politiche di coesione in Italia. Open coesione è un progetto del ministro della coesione territoriale, adesso gestito dal Dipartimento delle politiche di sviluppo, che aggiorna bimestralmente l'insieme di dati di monitoraggio che riguardano i finanziamenti gestiti dalle regioni e dalle amministrazioni centrali in tutta Italia sulle politiche di coesione 2007-2013. Sicuramente molti di voi avranno sentito parlare in Italia della partita dei fondi strutturali europei, questo perché molti di questi progetti, la stragrande maggioranza dei progetti che sono disponibili oggi sono su questa piattaforma, sono proprio finanziati tramite i fondi europei e sicuramente molti di voi avranno sentito parlare di un grande dibattito che abbiamo in Italia su lo spreco di queste risorse, piuttosto che la difficoltà di spendere queste risorse, piuttosto che il problema di come vengono spese queste risorse, se sono soldi che sono spesi bene, piuttosto che il rischio di perdere le risorse europee, sono dei temi ricorrenti nel nostro dibattito pubblico, proprio perché l'utilizzo dei fondi strutturali europei sottostà una serie di regole, alcune delle quali discuteremo oggi e fino ad adesso effettivamente per un cittadino comune non sarebbe stato facile farsi una propria idea di che cosa si fa con i fondi strutturali europei. Vediamo per strada spesso le bandierine dell'Unione Europea sotto dei lavori, delle impalcature dove vediamo un bel cartello, viene specificato il finanziatore, spesso è la regione, soprattutto in Italia metà di questi soldi sono spesi direttamente dalle regioni e non dalle amministrazioni centrali e poi spesso vediamo anche la bandierine europea, allora sappiamo da lì che questi sono dei soldi dei fondi strutturali, però a parte i cartelli che incontriamo per strada e che spesso a volte ci lasciano delusi soprattutto sulla tempistica che indicano per il completamento di questi progetti, spesso capita che camminiamo per strada e vediamo un cartello la cui tempistica anteriore di fine progetto rispetto a quella in cui stiamo camminando in quella via ed è difficile quindi farsi un'idea diciamo del complesso della tipologia di progetti che vengono finanziati. Questo portale che è un'operazione open data ma allo stesso tempo è un'operazione di comunicazione quindi a parte la possibilità di scaricare dati in formato aperto vi è anche un intero portale che fa una serie di visualizzazioni e invita chi va sul web a interrogarsi, a farsi delle domande su questi progetti. È sicuramente questa un'operazione di open government oltre che di open data. Oggi la piattaforma di open coesione che adesso andiamo un attimo a guardare insieme qui direttamente www.opencoesione.gov.it racconta o fornisce un insieme di informazioni su circa 700.000 progetti che vengono su questa piattaforma monitorati e aggiornati ogni bimestre. Questi progetti rappresentano sostanzialmente un investimento pubblico complessivo di quasi 64 miliardi oggi è quello che vedete in uno dei box. Di questi 64 miliardi riusciamo a rintracciare una spesa già effettuata di circa 23 miliardi. Questa è una prima indicazione su questo grande dibattito che riguarda il ritardo della spesa effettiva di questi progetti. Vedete lo scarto fra i 64 che costano questi progetti che sono stati individuati e i 23 miliardi che sono già stati spesi. E tenete conto che complessivamente noi siamo già quasi alla fine del 2013, quindi di questo ciclo di programmazione, complessivamente una stima delle risorse che sono state messe in campo per queste politiche sono quasi 100 miliardi, mentre noi al momento sulla piattaforma ne riusciamo a rintracciare soltanto 64 miliardi. Quindi c'è ancora tutta una serie di progetti che devono essere complessivamente individuati e che non sono ancora disponibili direttamente su questa piattaforma o perché ancora non sono stati individuati o perché naturalmente siccome questi sono dei dati amministrativi esiste un minimo di ritardo fra l'effettivo finanziamento del progetto e la nostra capacità di rintracciarlo. Individuati in che senso? Cioè che non sono stati caricati sulla piattaforma o di cui non è stata ancora decisa la modalità di spesa? Entrambe le cose. Per quale motivo? Allora questo lo andremo a vedere insieme. Intanto allora torniamo un attimo a darvi qualche elemento su che cosa sono le politiche di coesione. In brevissimamente appunto stiamo parlando per un settegno 2007-2013 perché questi sono i cicli delle politiche di coesione regionale in Europa di circa 100 miliardi di euro che vengono investiti. Questi 100 miliardi di euro provengono in realtà da diversi fonti. Una fonte certamente è la fonte bilancio europeo, bilancio dell'Unione Europea a cui noi stessi come Paese Italia contribuiamo quindi sono in parte diciamo anche soldi nostri, sono soldi dell'Europa ma di nuovo in quei soldi dell'Europa complessiva ci siamo anche noi come Paese membro e poi ci sono dei fondi nazionali specifici. Questo perché? Vediamo intanto che cos'è la politica di coesione. La politica di coesione è una politica specificatamente dedicata a incrementare le opportunità di sviluppo e la riduzione dei divari territoriali. Che cosa vuol dire le opportunità di sviluppo? Vuol dire crescita economica, vuol dire opportunità di lavoro, vuol dire qualità, disponibilità dei servizi pubblici, vuol dire inclusione sociale. Una serie di cose che possono appunto aumentare le opportunità dei cittadini ma anche le opportunità dell'economia e delle imprese indipendentemente dal luogo, dal contesto territoriale in cui vivono. La politica di coesione in Italia ha due fondamenti, non soltanto un fondamento all'interno del trattato europeo come gli altri Paesi da cui appunto il bilancio europeo spende soldi specificatamente per le politiche di coesione ma anche dalla Costituzione italiana in cui esplicitamente vengono individuati dopo la riforma del titolo quinto la necessità di interventi speciali a gravare sul bilancio pubblico italiano questi per promuovere uno sviluppo armonico nei territori, questo per quanto riguarda l'addizione specifica del trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione Europea e per quanto riguarda la Costituzione italiana per rimuovere gli squilibri economici e sociali tra territori diversi della nostra stessa nazione. Quindi per questo ci sono diverse fonti finanziarie che alimentano lo sforzo di investimento delle politiche di coesione. Da una parte il bilancio dell'Unione Europea dove i fondi strutturali destinati a tutta Europa rappresentano un terzo del bilancio europeo, una quota abbastanza consistente, una quota grande così come molto grande è un altro grande capitolo del bilancio europeo che è quello della politica agricola molto più antica la politica agricola comune rispetto, nasce già dal dopoguerra, rispetto appunto a quella dei fondi strutturali ma comunque una quota piuttosto consistente per questo che in tutta Europa c'è un acceso dibattito sulla necessità di riformare le modalità con cui vengono concessi e spesi questi soldi. Poi abbiamo un fondo specifico italiano della nostra politica nazionale che risponde a quel principio costituzionale che vi ho già detto che oggi si chiama fondo sviluppo e coesione che nel passato si è chiamato fondo aree sottutilizzate che nel passato ancora diciamo aveva un altro nome ma sostanzialmente sono molti anni che all'interno della nostra politica esistono delle risorse specifiche che vengono destinate i territori con finalità di coesione territoriale. Per darvi un'idea della complessità di queste politiche guardiamo appunto già a questo aspetto finanziario. Qui in questo grafico vi facciamo vedere come appunto esistono i fondi strutturali europei che alimentano in questo ciclo 2007-2013 circa la metà delle risorse per la coesione e il fondo sviluppo e coesione. Attenzione non confondere il fondo sviluppo e coesione come la quota parte del cosiddetto cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali europei. Spesso si legge diciamo così nel dibattito di attualità nei resoconti parlamentari piuttosto che non lo so negli audit della Corte dei Conti Europei piuttosto che negli articoli giornalistici in cui si parla e dei fondi strutturali europei si parla anche del cofinanziamento nazionale questo perché nelle regole per la spesa del bilancio europeo che ci viene affidato nei fondi strutturali europei noi siamo obbligati comunque a inserire un chip per ogni euro del bilancio europeo speso. Quindi esiste una quota di cofinanziamento che sono altri soldi, soldi ordinari che provengono dalle stesse regioni o di nuovo dal livello nazionale che accompagnano nei fondi strutturali. A seconda della tipologia di investimento questo si decide diciamo all'inizio del ciclo di programmazione questa quota di confinanziamento può essere del 40, del 50, del 60 per cento dipende può variare nel corso del tempo. Questo è tutt'altro discorso rispetto al fondo di sviluppo e coesione che è 100 per cento nazionale. Esistono dei progetti di investimento in cui che sono per esempio molto grandi che costano diciamo molti soldi che sono finanziati anche da fonti miste ovvero sono finanziati un pezzo dai fondi strutturali europei e relativo cofinanziamento e un pezzo dal fondo sviluppo e coesione e un pezzo magari da fondi ordinari che le regioni hanno per altri mezzi della politica diciamo regionale. Allora voi vedete qui in questo grafico che noi vi rappresentiamo sia il 2000-2006 che pare diciamo un'epoca diciamo molto lontana che l'epoca odierna 2007-2013 e vi dico che già stiamo parlando del ciclo delle politiche di coesione 2014-2020. Questo anzi proprio diciamo in questi mesi è l'acceso dibattito perché si stanno concludendo tutte le negoziazioni a livello europeo e poi a livello nazionale su come andranno distribuiti questi fra virgolette nuovi soldi che verranno immessi all'interno delle politiche di coesione. Perché facciamo diciamo c'è dentro open coesione anche dentro questa piattaforma di informazioni di monitoraggio sui progetti una commissione non soltanto delle fonti finanziarie ma anche dei periodi. bene questo perché un investimento che è nato sotto il budget e sotto le regole magari del 2000-2006 può darsi che oggi 2013 è ancora in corso di realizzazione. Voi pensate alle grandi infrastrutture che necessitano diciamo di tempi lunghi e che purtroppo nel nostro paese oltre a necessitare come in tutti i paesi di tempi lunghi sono anche particolarmente faragginose per tutta una serie di motivazioni e scontano ritardi purtroppo anche a volte molto gravi. Noi potremmo avere oggi ancora delle risorse del ciclo 2000-2006 in corso di realizzazione i progetti. Magari progetti che costavano molti soldi e che sono stati finanziati in varie tranche e quindi continuano oggi sulla base di un finanziamento che come primissimo budget ne ha avuto dal bilancio 2000-2006. Ora per quanto riguarda i fondi strutturali europei in realtà ogni euro che viene progetto individuato impegnato ovvero inizia a realizzarsi effettivamente questo progetto deve essere speso al più tardi entro il 2015. Ma per quanto riguarda il fondo sviluppo e coesione soldi che vengono investiti oggi non hanno un vincolo temporale sulla spesa così stringente e quindi a volte diciamo questi possono durare nel tempo diciamo così di realizzazione del progetto molto di più. Tornando alla domanda di Chiara quando diciamo le politiche per la coesione sono più o meno 100 miliardi nel periodo 2007-2013 la piattaforma di open data oggi disponibile riesce a monitorare circa 64 di questi miliardi crescente da quando questa piattaforma più o meno da un anno da quando esiste ma insomma ancora non abbiamo raggiunto il 100% dipende da due motivi uno i progetti non sono proprio ancora stati non sono ancora nati non sono stati individuati i soldi esistono esiste un'amministrazione responsabile per spenderli esistono degli obiettivi concordati su per cosa qual è la finalità di questa spesa ma ancora proprio non è stato individuato il progetto e quindi per forza non è sulla piattaforma di monitoraggio. Poi quando è che un progetto nasce sulla piattaforma di monitoraggio nasce nel momento in cui è stato ben individuato c'è per esempio almeno stato un bando è stato individuato il beneficiario l'attuatore colui che utilizzerà questi soldi per realizzare il progetto esiste dal punto di vista amministrativo un decreto esiste un qualche cosa che dal punto di vista amministrativo rintraccia chiaramente la spesa per questo progetto e diciamo da quel momento circa semplificando due mesi dopo con un ritardo di due mesi poiché la piattaforma viene diciamo aggiornata ogni due mesi può essere rintracciato anche sul sito di open coesione ma tanto per entrare ancora più nel merito e poi andremo a esplorare un po la piattaforma di open coesione insieme per vedere che tipologia di informazioni abbiamo cerchiamo di capire che tipologia di progetti vengono finanziati da queste politiche allora le politiche di coesione finanziano generalmente dei programmi anche questi ne avrete sicuramente sentito parlare in Italia si parla molto dei POR i programmi operativi regionali ce ne sono due in Puglia il POR FESR e il POR FSE per esempio si sente parlare anche molto dei PON i programmi operativi nazionali che cosa sono questi programmi sono dei grandi contenitori viene affidato a un'amministrazione per esempio la Regione Puglia per esempio il Ministero dell'Istruzione un budget complessivo per il periodo 2007-2013 e viene firmato un contratto con l'Unione Europea sulla base di un programma il programma deve dichiarare rispetto a delle priorità che sono state individuate e condivise dall'Unione Europea e dal Paese di Italia il gestore delle risorse dovrà individuare si dice per esempio delle misure o delle azioni specifiche per andare incontro al raggiungimento degli obiettivi di quelle priorità che sono state individuate infatti fateci caso ma quando appunto camminate in giro per Bari magari nel centro storico e magari vedete qualche cartello di qualche lavoro dove è individuata la ditta che li sta facendo l'ufficio della Regione il responsabile del procedimento alla Regione cioè colui che detiene poi tutte le procedure amministrative che riguardano quel progetto e vedete poi anche la bandieria oltre che della Regione e lo stemma anche dell'Unione Europea e spesso vedete POR, FESR, Puglia 2007-2013 vedete per esempio c'è scritto obiettivo, numero, c'è un numero 1, 1, 2, 1, 3 oppure una volta c'erano le misure, le azioni, sempre queste numerate queste rispondono a queste linee che sono descritte dentro i programmi che dicono per esempio può esserci una misura generale per l'innalzamento delle capacità dell'attrazione turistica della Puglia in cui come sotto obiettivi operativi vi sono una serie di linee già individuate che si finanzieranno progetti per il restauro dei beni culturali e la fruizione di circuiti itinerari culturali per questo per l'attrazione turistica per esempio allora il programma è una grande dichiarazione delle promesse e mette anche dei paletti su quello che possiamo fare con questi soldi in realtà poi i soldi però finanziano dei progetti individuali, specifici, molto specifici il restauro di un museo piuttosto che la creazione di un itinerario quindi delle cose molto specifiche e diversificate e che cos'è un progetto? è una cosa difficile da diciamo a seconda di qual è la materia di cui ci stiamo occupando dato che le politiche di coesione finanziano cose anche molto 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 diverse che cos'è esattamente il livello a cui si intercetta il progetto per noi dato che questo è un dato amministrativo è una procedura amministrativa che lo individua ma un progetto può essere una grande infrastruttura come può essere un lotto di un'autostrada quindi un pezzo di una grande infrastruttura così come può essere un itinerario turistico noi diciamo tradizionalmente le politiche di coesione finanziano dal lago al reattore e allora che cosa hanno in comune il lago e il reattore che uno è una cosa piccolissima, piccolissima, piccolissima l'altro è una cosa immensa e quindi che hanno dei costi ha delle dimensioni, delle implicazioni totalmente diverse e che lo scopo appunto ultimo di queste politiche di coesione è quello di cambiare qualcosa su un territorio in meglio e si possono quindi finanziare tutta una serie di cose che aiutano che vogliono aiutare a cambiare le condizioni di un territorio cose per esempio che aiutano a migliorare le competenze le capacità che sono disponibili su quel territorio cose che possono migliorare l'ambiente produttivo in cui si trova quel territorio collegamenti per la mobilità, per il trasporto collegamenti internet, broadband, infrastrutture che consentono all'ambiente produttivo di essere più fruttuoso cose che migliorano il contesto in cui vivono le persone anche qui di nuovo pensate sia tutto un insieme di servizi pubblici che anche tutte quelle cose che riguardano appunto il miglioramento dell'ambiente circostante e sostegno specifico a altri soggetti pubblici e privati che crea un'opportunità di crescita economica, reddito e di lavoro le politiche di coesione sono specificatamente evocate a finanziare cose che la politica ordinaria non riesce a fare nel nostro paese su questo c'è un dibattito piuttosto acceso perché noi negli ultimi anni con le politiche di coesione abbiamo anche finanziato tante cose che teoricamente sono nei doveri della politica ordinaria pensate alla scuola esiste all'interno della politica di coesione sotto l'idea di fornire la possibilità di avere più competenze e più capacità tantissimi finanziamenti per le scuole o per i corsi professionali che appartengono a questa tipologia di finalità tuttavia non vi è dubbio che in Italia la scuola sia un dovere di stampo ordinario nazionale ciò nonostante per vari motivi soprattutto nel sud le indicazioni di studi che sono alla base diciamo delle scelte di investimento che vengono fatte fanno sì che abbiamo investito tanti soldi anche in aree in cui le politiche ordinarie di solito dovrebbero arrivare allora dicevamo appunto i progetti decisi in corso di realizzazione individuati sono oggi in base ai dati che sono in pubblicazione sul sito che sono quelli del 30 giugno vi segnalo che la prossima settimana andrà diciamo in onda sul sito l'aggiornamento bimestrale quindi avremo i dati fino a fine agosto quindi probabilmente questo numero crescerà leggermente così come cresceranno rispettivamente diciamo le risorse monitorate e tutta una serie di informazioni che abbiamo sui soggetti che intercettano queste risorse. Allora andiamo a vedere tramite la piattaforma di visualizzazione che tipologie appunto di progetti vengono finanziati con queste politiche, voi vedete che ogni progetto viene individuato con una serie di caratteristiche che trasformiamo in dati, una serie di caratteristiche a volte molto standardizzate a volte meno standardizzate e in questo anche il lavoro che vi faremo vedere, soprattutto Andrea vi farà vedere una serie di strumenti proprio per aiutarvi a standardizzarle, per fare delle tabelline, delle statistiche, delle carte, delle altre tipologie di visualizzazioni. Abbiamo senz'altro tutta una serie di informazioni tematiche, i soldi per quale settore vengono spese, allora come vedete vengono spese per cose molto diverse, per i trasporti, per l'occupazione, per l'istruzione, per interventi sull'infanzia e agli anziani, l'inclusione sociale, per l'energia, per l'agenda digitale, vengono spese in infrastrutture ma anche in contributi diretti a persone, contributi di stampo monetario per il finanziamento ad esempio di voucher, di corsi di formazione, di cose di questo tipo ma anche di sussidi per le politiche attive, per il ricollocamento sul mercato del lavoro in varie forme, per l'acquisto di beni e servizi, che cosa vuol dire? Attrezzature, anche attrezzature per la stessa pubblica amministrazione, per migliorare le capacità della pubblica amministrazione, di offrire tutta una serie di servizi. I progetti sono anche localizzati e vedete su questa cartina che appare sulla destra dello schermo potete scegliere di capire le concentrazioni della spesa in termini di valori totali, complessivi, come adesso, quindi potete vedere i territori più scuri, sono quelli in questo momento dove abbiamo l'individuazione di maggior numero di risorse, questo perché, come vi potete immaginare, dato l'obiettivo di queste politiche di coesione territoriale, la quantità complessiva delle risorse è più concentrata a sud che a nord, e questo lo vedete già molto bene da questa cartina, potete vedere anche qualche altra tipologia di statistica, ovvero cercare di capire in termini pro capite, vedete la mappa, cambia concentrazione, in quali territori queste risorse sono più concentrate, e potete anche andare a cercare un posto specifico, una città, un comune qualsiasi, una provincia, una regione, andare a vedere esattamente che progetti ha, oppure addirittura se conoscete un progetto, o se conoscete un beneficiario di questi progetti, lo potete andare a cercare direttamente in un motore di ricerca che vi consente eventualmente di individuarlo. Facciamo un esempio, anche questo progetto è finanziato dai fondi strutturali europei, in particolare credo dal fondo sociale, vero? Questo è un progetto quindi che è finanziato dal POR Puglia Fondo Sociale Europeo, e in particolare l'attuatore di questo, quindi chi si occupa, chi ha avuto in gestione le risorse per l'attività di realizzazione di questo laboratorio di Open Data in Action a Bari, è l'Arti Puglia, se non sbaglio. E allora noi possiamo andare a vedere, per esempio, se questo nostro progetto, dove siamo qui oggi noi a realizzarlo tutti quanti insieme, è dentro la piattaforma. Allora scriviamo sotto a soggetti, vediamo se troviamo l'Arti in quanto beneficiario dei fondi sociali, del fondo sociale europeo del POR Puglia, e vediamo che progetti ha. Allora vedete, eccolo qua, Arti, questo è l'Arti Puglia, l'agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, eccola qua. Complessivamente l'Arti ha in gestione due progetti, per un totale di 5 milioni di euro, mi sembra di aver visto, di cui ne ha spesi più della metà. Questi progetti sono tutti in Puglia, bene, questo diciamo ci conforta, essendo questa un'agenzia della regione Puglia, e quindi ecco qua. E che tipologia di progetti sono? Bene, sono catalogati così. Entrambi i progetti sono dei progetti nel campo della ricerca e dell'innovazione, bene, effettivamente quello dell'open data è un campo che appartiene a quello dell'innovazione, quindi attività di promozione sull'open data sono attività, diciamo, di innovazione, così come sono catalogate, e consiste nell'acquisto di beni e servizi, bene, effettivamente pure qui più o meno ci ritroviamo, ovvero che cosa si è acquistato con questi soldi, bene, attrezzature per poter fare lo streaming, per esempio, attrezzature e viaggi per poter portare chi ha fatto i seminari qui da fuori, quindi questo è l'acquisto sostanzialmente di beni e di servizi, quindi ci ritroviamo effettivamente a pieno all'interno della descrizione. Andiamo a vedere, in realtà i progetti sono due, io non so a quale riga, diciamo, apparteniamo noi, immagino che siamo nella fase 2, attività di promozione e valorizzazione e trasferimento di conoscenza, poiché questo è considerato una sorta di opportunità di, diciamo, di formazione, questo poi lo possiamo verificare, diciamo, meglio, però immagino che siamo qua dentro. Questo per darvi un'idea di come vengono rintracciati i progetti. Ora, questa iniziativa probabilmente è un pezzettino di un percorso più ampio in cui ci sono altri progetti, diciamo, similari. Vedete? Se andiamo a vedere una descrizione ancora, abbiamo aperto adesso, scelto uno dei due progetti, attività di promozione e valorizzazione, rete regionale e trasferimento di conoscenza fase 2, possiamo andare a vedere, ah beh, però questo è FESR, eh no, credo che lo siano tutti e due FESR, mi sa, perché tutte e due ricerca e innovazione, però è possibile, perché noi possiamo spendere una parte del FESR su progetti similari alle FSE, elevare la domanda e la promozione delle imprese a investire in ricerca, forse, oppure, andiamo a vedere l'altro, creare imprese e diffondere tecnologia, se questo è più... Sì, e questo peraltro è finito, come vedete, è stato speso già il 100% delle risorse, dunque è probabile che noi siamo nella fase 2, è un progetto del FESR, è possibile. Questo per farvi vedere che bimestralmente rileviamo a che punto sono i pagamenti di questo progetto, il primo progetto già concluso, era addirittura già concluso nel febbraio del 2012, invece noi siamo, quindi, nella fase 2, eccoci qua, possiamo vedere l'andamento dei pagamenti, come vedete ogni mese le realizzazioni in termini di pagamenti crescono, perché ci saranno diverse iniziative, più o meno analoghe, diciamo, a questa all'interno di questo progetto, e su questo progetto abbiamo tutta una serie di informazioni, non soltanto quelle relative ai finanziamenti, chi mette i soldi, vedete, Ognuno Europea, cofinanziamento nazionale, ma anche alcuni soldi specifici della regione in più, vediamo qual è il programma a cui risponde, vediamo appunto l'asse e l'obiettivo, quindi come si configura questa azione, capire per quale motivo stiamo facendo, diciamo, sostanzialmente questa tipologia di laboratorio, per esempio, e le varie altre, e abbiamo anche una serie di informazioni ancora più dettagliate all'interno, per aiutarci a capire quale dovrebbe essere il senso di questo progetto, a che tipo di obiettivo vuole contribuire, queste che vedete le priorità del quadro strategico nazionale, a cui risponde questa tipologia di progetto. Abbiamo una serie di informazioni anche sulle date, ovvero quando è che si prevede di iniziare il progetto e quando è che si inizia, si pensa di finirlo, sia in previsione che poi effettivo, non è ancora effettivo, quindi non è raro che non sia disponibile ancora la data della fine effettiva, perché come abbiamo visto è ancora in corso. Bene, noi possiamo però anche andare ad esplorare, vedete anche, scusatevi, voglio anche segnalare questo perché ne parleremo dopo meglio e ci potrà essere utile per tutta una serie di elaborazioni di dati, ogni progetto, oltre ad avere un titolo che ne dà un po' una descrizione più o meno efficace, certo noi non ci ritroviamo in questo momento esattamente una linea che si chiama Open Data in Action di Bari, ma ci troviamo all'interno di una serie di attività che possono essere descritte a volte, diciamo in italiano che tutti lo capiscono, a volte purtroppo, ahimè, questo come tutti i dati amministrativi in un modo che non è detto che capiamo subito di che si tratta e quindi a quel punto tutte quelle altre informazioni sul tema, sull'obiettivo, ci sono molto utili per capire di che cosa stiamo parlando, ma un elemento che abbiamo sempre per accompagnare il titolo del progetto è anche questo codice che vedete in alto, CUP, il codice unico di progetto, questa è una codifica utilizzata a livello nazionale che è importantissima e su cui si lavora da moltissimi anni, che è una sorta di codice fiscale del progetto, è una codifica univoca che segue una serie di regole, andremo a vedere meglio gerarchicamente che cosa vogliono dire questi numeretti dove sono posizionati, così come in un codice fiscale, le prime lettere rappresentano il cognome, le seconde lettere rappresentano il nome e così via di seguito, abbiamo tutta una serie di informazioni anagrafiche sul progetto, e che ci consente di incrociare i dati di questo progetto con altri dati che possono esistere sugli investimenti pubblici in Italia, quindi è particolarmente importante per questo che ci consente di incrociare basi amministrative diverse. Per esempio, una cosa molto importante che ci sta consentendo di fare l'obbligo di avere un CUP ad ogni progetto di investimento in Italia, una targa, un codice fiscale del progetto, è la possibilità di ritrovare il progetto quando è finanziato da molteplici fonti, e quindi per esempio qui dentro di non contarlo due volte, se da una parte riceviamo l'informazione del fatto che è all'interno di un programma come un POR, quindi un programma finanziato dai fondi strutturali europei, e dall'altra parte riceve eventualmente anche un finanziamento nazionale, FSC, Fondo Sviluppo e Coesione. Ci permette, e questo vi daremo una serie di spunti, e avrete comunque nelle slide i riferimenti a dei siti o a una serie di manuali che possono essere di interesse, il CUP ci permetterebbe anche di incrociare, per esempio, questi dati con le banche dati dell'autorità della vigilanza sui lavori pubblici, che contengono tutta una serie di altre informazioni sulle opere e sugli acquisti, diciamo, della pubblica amministrazione, che non sono su questa piattaforma. Stiamo parlando quindi di un codice che ci consente di incrociare le informazioni su questi progetti con altre informazioni che potrebbero provenire da altre fonti amministrative. Così come sapere che il progetto si svolge a Bari e avere qui dentro questa indicazione con il codice del Comune Istat di Bari, ci consente di incrociare le informazioni su questi progetti con tutta una serie di informazioni in open data che esistono nella piattaforma open dell'Istituto di Statistica Nazionale, cosa che faremo insieme con Andrea un po' più tardi. Torniamo al home, dunque, alla home page. Allora, la home page contiene tutta una serie di informazioni aggregate per mostrare di che cosa, diciamo, sono fatte le politiche di coesione e ci dà tutta una serie di informazioni in breve, che vengono appunto aggiornate a ogni aggiornamento del sito su come funzionano le politiche di coesione. Potete andare, diciamo, anche in questa parte finale per fare la vostra esplorazione e saperne, diciamo, di più, su delle iniziative collegate alla promozione e dell'utilizzo dei dati aperti sulle politiche di coesione, come questo progetto che sta per partire a scuola di open coesione, ma anche su, diciamo, i progetti, per esempio, che hanno ricevuto maggiori finanziamenti e sui soggetti che sono coinvolti all'interno delle politiche di coesione, che ricevono i soldi, le gestiscono o sono responsabili della realizzazione dei progetti. Andiamo a vedere sulla cartina, cerchiamo, ad esempio, un comune pugliese. Ditemene voi uno. Eccolo qua, Valenzano. Allora, andiamo a vedere a Valenzano. Poi ci racconti tu che cos'è, dov'è Valenzano e com'è fatto. Allora, speriamo che magari questi 118 progetti che vediamo finanziati dalle politiche di coesione a Valenzano, rendono anche Valenzano un territorio con maggiori opportunità rispetto a prima, per chi ci vive. Allora, ci sono circa 12,4 milioni di euro delle politiche di coesione in questo momento rintracciate dal sito, che hanno dei progetti che insistono sul territorio di Valenzano. Andiamo a vedere che tipologia di progetti. Allora, come vedete, ci sono una serie di cose che a Valenzano non stiamo facendo. Magari c'è nemmeno bisogno. Magari il comune di Valenzano, che è realizzatore di alcuni di questi progetti, ha puntato, diciamo, su altri ambiti. Sembrerebbe che facciamo una serie di cose per l'ambiente, una serie di cose per la ricerca e l'innovazione. Non facciamo per niente, però, delle grandi infrastrutture sui trasporti. a Valenzano, questo lo vedete un po' da questa schermata, e, per esempio, abbiamo una serie di progetti, li vedete qui, parecchi progetti, credo, nelle scuole, perché vedo che si sono conclusi recentemente, ultimi progetti conclusi, una serie di progetti che sembrerebbero essere dei progetti che sono stati fatti nelle scuole, let's speak in English, risolvo facilmente, e così via di seguito. Il finanziamento pro capite a Valenzano, cioè, fatta in totale la popolazione di Valenzano, più o meno, è come se ogni cittadino di Valenzano ricevesse circa 678 euro che sono stati investiti in questi vari progetti. e possiamo andare a vedere la lista di tutti questi 118 progetti a Valenzano, qui avete tutta una possibilità di filtri per consentirvi di andarne a prendere, diciamo, delle sottoliste, sono tutti, diciamo, questa piattaforma vuole, si chiama così, scopri, segui e sollecita la piattaforma di Open Coesione, perché scopri, perché vuole la piattaforma invitare l'utente a conoscere queste politiche, a conoscere quali progetti vengono finanziati, no? Quindi a scoprirli, a seguirli, ovvero magari alcuni a vedere come si evolvono nel corso del tempo e a sollecitare, a sollecitare chi? Ad esempio a sollecitare i decisori, a sollecitare chi gestisce queste risorse affinché i progetti vengano realizzati meglio e i soldi spesi, diciamo, in maniera considerata più proficua per la collettività che ne dovrebbe beneficiare. Allora, vedete qui il quadratino che differenzia per tipologia di fondo prevalente dal punto di vista del finanziamento di progetti, quindi vedete che il primo progetto che appare sulla lista che riguarda l'Università di Bari, dove a quanto pare vi è Valenzano è coinvolto in quanto località per un lotto di un nuovo campus dell'Università di Bari, non so se questo vi risulta, se ne siete il corrente, bene, se sai esattamente dov'è, fotografalo e mandacelo su Moniton in modo che anche noi possiamo, diciamo, saperlo, questo lo vedremo insieme, diciamo, più tardi. Questo è un progetto che è finanziato soprattutto da risorse nazionali, vedete questo quadratino, assegnazione Cipe, Cipe è il Comitato Interministeriale Interministeriale per la Programmazione Economica che è il Comitato che soprassiede le decisioni di progetti che vengono finanziati in parte di questi progetti che vengono finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione. Poi vedete tutta una serie di altri progetti che hanno un quadratino invece verde chiaro con una percentuale di realizzazione in termini di pagamenti, questi sono prevalentemente finanziati dai fondi strutturali europei, dico sempre prevalentemente perché abbiamo molti progetti che sono misti e questo sapere se è misto o no vuol dire entrare proprio nella scheda o scaricare proprio il dato e vedere tutti i finanziamenti che lo compongono come abbiamo visto all'interno diciamo della scheda del progetto e in base a tutte le classificazioni che avete visto prima e anche a qualcos'altro possiamo scegliere un sottinsieme di questi 118 progetti ad esempio concentrarci magari a vedere soltanto quelli che sono di solito si guardano sempre quelli che sono particolarmente grossi invece consentitemi andiamo a vedere quelli che sono piccoli non ci sono progetti a meno di 1000 euro a Valenzano ma ci sono dei progetti che sono relativamente piccoli nel senso che riguardano un investimento di al massimo 10.000 euro non è un grosso investimento 10.000 euro vediamo che tipologia di finanziamenti ci sono e adesso questo lo vedete anche voi di solito questi che sono più piccoli sono dei finanziamenti o nel settore dell'istruzione dei progetti che vengono fatti all'interno delle scuole adesso cerchiamo di capire meglio se questi qui come riusciamo a configurarli o dei progetti che sono dei piccoli incentivi a delle piccole imprese immagino che lavanderia Mercurio appartenga per esempio a questa categoria ci sarà stato un bando regionale per il rinnovo delle attrezzature o per non so la piccola imprenditoria e magari questo ha ricevuto un finanziamento in tal senso non l'hanno ancora pagata vedete sì qui c'è ecco vedete qui a volte come vi dicevo il titolo la denominazione del progetto ci aiuta a capire di che si tratta a volte no questo vedete si chiama ritorno al futuro avviso numero 18 2009 allora ritorno al futuro in sé adesso non so chi è che potrebbe comprendere bene di che si tratta io guardando meglio le altre informazioni qui intorno immagino che questi siano vedete rafforzare scusa se ti interrompo sono borse di studio ci arrivavo ci arrivavo ci arrivavo dico che non è evidente per chi non conosce di che cosa si tratta guardando solo le denominazioni però di nuovo se vi aiutate con le informazioni a corredo del progetto avete qualche indizio per capire meglio vedete l'obiettivo questo intanto è fondo sociale europeo asse capitale umano quindi ha qualcosa a che fare con il rafforzamento delle competenze delle capacità in particolare c'è scritto rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i percorsi post laurea in collegamento con le litigenze di competitività eccetera eccetera dei sistemi produttivi locali allora capiamo che probabilmente qui questo ritorno al futuro è un bando vedete avviso numero 18 2009 fatto dalla regione per concedere delle opportunità post laurea quindi delle borse di studio cose di questo tipo peraltro qui il titolo del progetto magari in sé non è particolarmente rilevatore ma il fatto di avere avviso numero 18 2009 inviterebbe chi vuole saperne di più di andare magari sul sito della regione del finanziatore in questo caso abbiamo visto che è POR Puglia e andare a ricercare questo bando avviso 18 2009 lì sì che ci saranno tutte le caratteristiche per comprendere di che tipologia di progetto è e come vedete qui l'individuazione è molto chiara a chi è stato diciamo concesso questo bando ok quindi qui abbiamo una serie di informazioni di questo tipo sono domande? potete vedere nella schermata che automaticamente proprio per dare uno spunto all'utente che vuole scoprire di che si tratta conoscere ci sono una serie di associazioni che vengono fatti ad altri progetti sul territorio di Valenzano sullo stesso progetto e sullo stesso territorio che sono simili a questo che abbiamo individuato quindi come vedete vengono individuati a Valenzano una serie di altri beneficiari delle borse di studio ritorno al futuro una serie di scuole vedo scuola media Capozzi Galilei di nuovo delle opportunità di formazione diciamo all'interno delle scuole quindi in questo senso sono progetti affini per tema poi vediamo sullo stesso territorio dei progetti che appartengono alla stessa natura dell'investimento infatti vedete escono fuori dei dottorati di ricerca anche che fanno parte della stessa diciamo filiera e poi vedete gli stessi soggetti programmatori sono anche qui ritrovati dei progetti all'interno del territorio di Valenzano se uno volesse tornando indietro alla lista dei progetti dei 118 progetti a Valenzano la scorro diciamo può fare delle diverse selezioni qui vi ricordo che abbiamo preso soltanto i finanziamenti molto piccoli sotto i 10.000 euro potremmo andare a vedere quelli più grandi e possiamo scaricarci questi dati direttamente dal sito vedete qui scarica i risultati della ricerca questo vi consente di scaricarvi un CSV che contiene sostanzialmente le stringhe relative a questo progetto un esercizio che faremo dopo insieme ok allora abbiamo visto che in grandi linee la tipologia di informazioni disponibile in Open Coesione tenete conto che per ogni progetto la numerosità delle informazioni diciamo teoricamente disponibili sono circa 72 variabili quindi sono tanti descrittori diversi per uno stesso progetto a volte questi 72 campi sono pieni cioè abbiamo per ognuno di essi un'informazione puntuale a volte ci possono essere dei campi non disponibili a volte questi campi sono numerici e appartengono a una codificazione standardizzata che ci permette con sicurezza l'individuazione ma anche l'incrocio con altri dati che provengono da altre fonti fuori da Open Coesione a volte invece sono degli alfanumerici e questo lo vedremo meglio di nuovo con Andrea gli alfanumerici sono sempre difficili perché non essendo dei codici standard scontano il modo in cui hai scritto le cose quindi arti te la puoi ritrovare col punto senza punto faremo insieme una serie di esercizi proprio diciamo su questo però sostanzialmente la tipologia di informazioni che su ogni progetto vengono diciamo si tenta di dare in questa piattaforma di monitoraggio è quella di una denominazione degli importi e delle fonti di finanziamento e dei tempi del pagamento dei luoghi in cui questi progetti si realizzano delle aree tematiche dell'intervento e dei soggetti pubblici e privati coinvolti all'interno della realizzazione dei progetti e nonché qualcosa sui tempi di attuazione vi dico subito le informazioni che appartengono ai primi grandi quattro ambiti che vedete su questa slide sono di solito delle informazioni a parte quelle che sono alfanumeriche che pongono problemi tecnici delle informazioni piuttosto pulite quelle che riguardano i soggetti e i tempi sono meno pulite utilizzo questo termine diciamo un po' gergale per dire delle cose che vedremo insieme quando metteremo anche noi mano proprio sui dati in questo workshop che cosa vuol dire non pulite non pulite perché il dato magari è incompleto oppure perché il dato è difficile da catturare proprio perché è scritto in una maniera non standardizzata vi faccio un esempio se andiamo sulla piattaforma open coesione pensiamo a un grande fornitore tipico che ci potrebbe essere della PA vi dico per esempio IBM IBM sicuramente in tutta Italia dei progetti che riguardano la ricerca l'innovazione l'informatica l'acquisto di attrezzature prima o poi anche l'IBM sicuramente avrà ricevuto diciamo un finanziamento andiamo a vedere IBM ah beh IBM invece no siamo fortunati abbiamo individuato proprio nuove progetti e IBM è scritto diciamo soltanto IBM Italia S.P.A. quindi non abbiamo problemi di individuazione vediamo arti se ci sono altri arti in Italia ecco qua se avessimo scritto arti prima senza punto tra la A la R la T e la I avremmo trovato tutta una serie di cose arti no? e allora qui ecco e abbiamo arti grafiche e ci dobbiamo chiedere ma questi sono gli stessi soggetti o sono soggetti diversi? vedete? proviamo Anas bravo perché Anas sicuramente dato che finanziamo infrastrutture importanti anche stradali vediamo Anas Anas anche qui ecco vedete abbiamo scritto Anas una volta senza ulteriore specificazione 45 progetti realizzatore di 45 progetti poi abbiamo Anas S.P.A. scritto varie volte in modalità diversa vedete una volta c'è un punto tra la S e la P ma non ce n'è uno dopo l'A un'altra volta ce n'è anche uno dopo l'A allora questi dati sono fra virgolette sporchi proprio perché è molto probabile che questi tre attuatori Anas S.P.A. dove il punto a volte è dopo ogni maiuscola a volte no siano lo stesso soggetto ma la macchina da sola non riesce a individuarlo serve il nostro intervento umano per ripulire questo dato l'altro giorno proprio con Paola stavamo facendo una ricerca riguardo all'infrastruttura Paola mi ricordi il percorso preciso riguardo all'università i finanziamenti delle infrastrutture all'università era potenziamento infrastrutture universitarie e ci sono diciamo tra i dati visibili sul portale e quelli poi scaricati con di open data c'era una differenza numerica probabilmente proprio per questi motivi di non pulizia di alcuni nomi no i dati che voi avete visualizzati sul portale open coesione e gli open data che scaricate direttamente dal sito del DPS sono gli stessi identici questo per un altro motivo perché ricordatevi che il portale di open coesione aggiorna i dati ogni due mesi quando voi l'avete caricati su moniton la data di riferimento non era quella del 30 giugno noi adesso abbiamo un maggior numero di progetti ma era anteriore quindi se non c'è stato un aggiornamento automatico mentre il portale di open coesione e gli open data connessi hanno continuato a crescere ogni due mesi dato che prima o poi dovremo arrivare a coprire 100 miliardi di investimento complessivo messo a disposizione voi invece se non avete creato un meccanismo automatico per aggiornarli siete rimasti alla lista precedente di qualche mese fa in questo ci potrebbe essere una differente numerosità un'altra differente numerosità voi la potreste riscontrare su un altro fenomeno che adesso vi dico per quanto riguarda i fondi strutturali europei non le politiche di coesione finanziate esclusivamente dal fondo sviluppo e coesione ma quelle finanziate diciamo prevalentemente il progetto dai fondi strutturali l'Europa c'è una previsazione di Luigi riguardo a quello che abbiamo detto prima che la fonte dei progetti di potenziamento non è open question ma il forrec miur allora c'è un altro motivo ancora ma adesso ci arrivo fatemi dire vari motivi dove voi avete varie fonti dove potete rintracciare dati che riguardano progetti e che quindi vi potete chiedere ma perché è la stessa informazione non è la stessa informazione e così via di seguito allora c'è una fonte per quanto riguarda i progetti Unione Europea fondi strutturali europei scusate che è la regione stessa esiste un obbligo di trasparenza di lunghissima data che sta all'interno dei regolamenti dei fondi strutturali europei ovvero delle regole del gioco per poter utilizzare questi soldi che fa sì che il gestore l'amministrazione che ce l'ha in affidamento deve pubblicare delle liste di beneficiari e quindi le regioni pubblicano ma non sempre in formato open data a volte in pdf non sempre con una cadenza diciamo regolare non sempre con una così estesa quantità di informazioni collegate ad ogni progetto e non in maniera standardizzata da una regione all'altra pubblicano una serie di liste in cui vedete apparire i beneficiari di questi progetti perché questo fa parte appunto degli obblighi di trasparenza allora la cadenza di pubblicazione di quei dati e la quantità di dati che vengono pubblicati che sono inferiori a quelli che vengono pubblicati da questa piattaforma di monitoraggio a volte anche lì ci può essere una discrepanza nella numerosità di progetti e delle liste mentre questo portale offre uno sguardo molto più esaustivo sui contenuti del progetto e non soltanto su chi riceve i soldi ma sul perché li dovrebbe ricevere quali sono i propri supposti quali sono gli obiettivi a che punto sta il progetto a che punto sta i pagamenti tutte queste altre cose che abbiamo visto non è detto che la lista regionale abbia tutte queste informazioni anzi generalmente ce ne ha molte molte di meno oltre a non essere aperte e poi la cadenza potrebbe essere diversa allora questo è l'esempio l'esempio che sta facendo Luigi viene proprio da questo in quel caso non è un POR ovvero non è la regione Puglia ma è il ministero dell'istruzione università e ricerca che ha un PON programma operativo nazionale REC ricerca e competitività che finanzia tutta una serie di iniziative per le imprese le industrie e per i grandi luoghi di formazione di ricerca come le università appunto e consorsi di vario genere allora il PON REC a differenza da molti altri programmi nazionali pubblica degli open data su i progetti con anche una serie di descrizioni di questi progetti quindi con una serie di informazioni piuttosto complete che peraltro vengono qui linkate all'interno di open coesione quindi noi facciamo un lavoro per cui immergiamo tutte le informazioni in più che loro hanno e che pubblicano all'interno diciamo di open coesione e ricordatevi che open coesione la lista è guidata dal principio territoriale non della fonte dovete fare dei filtri se quello che voi avete rintracciato dentro PON REC riguarda solo il finanziamento PON REC a quelle università se voi guardate il territorio Puglia sul territorio Puglia arrivano finanziamenti l'abbiamo visto prima c'è una complessità di fonti arrivano i finanziamenti del POR Puglia ma arrivano i finanziamenti del PON REC arrivano i finanziamenti del PON MIUR molti di questi progetti sulle scuole queste che abbiamo visto delle scuole a Valenzano non sono finanziati dal POR Puglia molti di quelli sono finanziati dal PON MIUR quindi dipende da qual è se voi state inseguendo diciamo quando state guardando questi dati il principio della fonte di finanziamento in quel caso per esempio il PON REC o del responsabile amministrativo il soggetto programmatore ministero piuttosto che regione o se state guardando il territorio indipendentemente dal mix delle fonti finanziarie che vengono su quel territorio spese quello che Open Coesione vi restituisce quando voi chiedete territorio guardate qui progetti quando voi vedete territorio e scegliamo ad esempio la Puglia vedete tutti i progetti che insistono sul territorio pugliese indipendentemente dalla fonte di finanziamento se poi andando alla lista di tutti i progetti volete guardare soltanto i progetti che sono di una fonte finanziaria vedete qui addirittura ci sono 11 progetti che sono finanziati prevalentemente da un ciclo 2000-2006 già terminato quindi sono decisioni di finanziamento molto antiche ma sono progetti ancora in corso di realizzazione lo vedete qua dalle fonti e quindi se scegliamo fondi strutturali 2007-2013 poi qui bisognerebbe andare a cercare unicamente quelli del PON REC questo lo potete fare ad esempio scegliendo invece che territori nella chiave di query dove la chiave appunto è il territorio non è la fonte scegliendo programmi UE dove avete qui la lista intera dei PON e dei PON e quindi qui prendete solo quella fonte finanziaria quindi per tornare a quello che dicevamo prima per cioè se diciamo il il progetto è all'interno del PON del MIUR noi possiamo ritrovare il pezzettino del PON MIUR che afferisce alla Puglia cercando tra in questo menu cioè quello delle politiche che abbiamo visto adesso dei programmi giusto? Sì voi dovete cercare prima PON MIUR e poi vedere quali del PON MIUR sono in Puglia potete scegliere PON REC ad esempio ma vi ricordo anche questa cosa importante da fare quando uno utilizza questi dati questi sono dei dati in movimento anche se questo movimento non è giorno per giorno ora per ora ma è soltanto magari di due mesi in due mesi aggiornato se voi fate la fotografia un istante e volete oltre che scoprire il primo pezzo di Open Coesion e scopri volete anche seguire per fare il seguire bisogna aggiornare i dati anzi per il data journalism questo è quello che diventa interessante perché non solo potete scrivere una storia di approfondimento su un determinato territorio valenzano piuttosto che un determinato filone delle politiche un determinato obiettivo ma potete vedere anche l'andamento nel corso del tempo quindi potete realizzare delle storie standardizzate e vedere che cosa succede uno potrebbe essere interessato a capire Valenzano che abbiamo visto oggi ha 118 progetti di cui mi sembra che la spesa era circa la metà dell'investimento complessivo potrebbe nel corso del tempo andare a vedere appunto a Valenzano quali altri progetti diciamo vengono sul suo territorio oppure potete appunto ogni due mesi se avete un set standardizzato di grafici sull'andamento della spesa vedere se la spesa è cresciuta vedere quali progetti si sono conclusi e così via di seguito ovvero esiste una vita diciamo da seguire e in questo anche il mestiere diciamo del data giornalismo è più interessante perché questo lo vedremo meglio dopo il data giornalismo può essere quello di approfondimento micro di singole storie di una singola indagine come può essere diciamo più macro e allora in quel caso è più interessante scegliere dei filoni dove i dati nel corso del tempo si muovono e quindi c'è una nuova notizia da dare in questo il fatto che i dati sono aperti è molto importante perché consente al data journalist all'informatico a chi mette insieme queste cose la possibilità di scrivere un codice che questo aggiornamento lo fa automaticamente ovvero una volta impostato l'insieme di grafici di visualizzazioni da fare su questi dati il fatto che siano open e che siano sulla piattaforma web online consente a voi di creare un motore che in automatico li aggiornerà ogni volta che c'è un aggiornamento inserito all'interno di quei dati sicuramente voi l'avete visto ad esempio con open parlamento dove i dati si aggiornano ogni giorno non è che manualmente vengono aggiornati esiste un meccanismo automatico che incorpora diciamo tutte le novità che effettua automaticamente l'aggiornamento e allora uno se fa una piccola storia ha un piccolo insieme di grafici può costruire anche il motore di ricerca che aggiorna tutto in automatico allora andiamo subito a delineare il cuore della giornata di oggi come si utilizzano questi dati per esempio che cosa ci si può fare beh a parte che se voi avete diciamo degli interessi della curiosità dato che finanziamo con queste politiche cose molto molto diverse è chiaro che magari chi si occupa di scuola è interessato a seguire le cose che si fanno le scuole chi si occupa di infrastruttura è interessato magari a capire l'andamento delle grandi opere e così via di seguito chi abita in un comune è interessato semplicemente a sapere il mix dei progetti che magari in quel comune vengono finanziati e chi è responsabile della loro realizzazione se è il comune se è qualche soggetto privato e così via di seguito allora in questa chiave noi vogliamo darvi una serie di spunti e di suggerimenti per poter utilizzare questi dati dopo in coesione in collegamento con altri dati ad esempio quelli dell'ISTAT ma anche di altri fonti che vedremo insieme e anche qualche chiave interpretativa oltre che degli skills degli strumenti con cui elaborarli e data journalism che cos'è? sicuramente con Nicola Sigieri avrete visto che si possono fare tante cose vi ha parlato diciamo di tante iniziative che loro fanno di diversa natura allora a me piace questa cosa guardarla cercando di isolare due filoni principali e il data journalism li fa diciamo un po' tutti uno è un filone più di analisi di ricerca un filone in cui si guardano diciamo i dati da una prospettiva più macro ovvero mettendo tanti dati insieme facendoli parlare in cui quello che ci interessa di più quindi è poterli categorizzare e guardare dei totali guardare dei fenomeni grossi non dei fenomeni puntuali no? quindi in questo guardare tutto Valenzano indipendentemente dal singolo progetto come è fatto come è composto e come si evolve nel corso del tempo l'altro è invece un interesse micro per le singole storie che ognuno di questi progetti nasconde un progetto viene fatto in un determinato posto con delle determinate persone in un determinato territorio molto specifico con delle conseguenze degli effetti proprio lì proprio che coinvolgono quel micro universo lì e allora questo ci permette con magari anche una geolocalizzazione puntuale ovvero non soltanto il comune ma esattamente la via l'insieme dei quartieri l'insieme dei lotti no? su cui insiste il progetto e attivando tutta una serie di altre leve di andare a seguire le singole storie e di fare di queste storie anche delle iniziative di monitoraggio civico e di partecipazione a questi progetti proprio perché li seguiamo nel loro effetto micro all'interno del tempo allora il data journalism che è sostanzialmente raccontare delle storie con i dati fa tutte e due queste cose a volte si occupa più di fenomeni macro a volte si occupa più appunto dei fenomeni micro noi oggi guarderemo come si possono elaborare dei dati guardando un po' di più la parte diciamo macro ma dandovi delle piste per poter andare invece a raccontare delle storie micro alcune storie micro che già alcuni di voi qui ad esempio a Cubari stanno raccontando tramite la piattaforma di monitoraggio civico Moniton una delle iniziative che fanno parte del progetto di open coesione era proprio quello abbiamo detto sollecita è il terzo verbo che viene associato al progetto scopri segui e sollecita ecco sollecita voleva essere aprendo questi dati l'opportunità per i cittadini per tutti i soggetti interessati nei territori di raccontare il loro punto di vista su questi progetti noi conosciamo soltanto i finanziamenti no? cioè dalle informazioni amministrative ma poi per capire gli effetti per capire se davvero si stanno concludendo per capire gli intoppi abbiamo bisogno delle persone che sono lì per in qualche modo guardarli questi progetti e dare delle informazioni di ritorno o tramite il crowdsourcing queste tecniche alcune delle quali Nicola sicuramente vi ha mostrato diciamo ieri o tramite diciamo altre forme più o meno strutturati esistono anche quelle della ricerca quelle dei valutatori ma esistono anche quelle proprio di chi va sui territori è in grado questi progetti di trovarli di localizzarli è in grado di dire qualcosa di più per descriverli e descrivere il loro andamento allora una delle iniziative parallele che è sorta in maniera indipendente ma collegata al progetto di un po' è proprio l'idea di organizzare di promuovere delle iniziative di monitoraggio pubblico tramite una maratona che insegue i progetti sul territorio e quindi questa maratona da maratona hackathon perché spesso ci siamo trovati nell'avvio in mezzo a iniziative come quelle più recenti che sono cresciute intorno a tutto il tema degli open data ovvero dell'utilizzo hackathon dei data di queste maratone informatiche diciamo per l'elaborazione dei dati e quello del monitoraggio civico moniton e proprio qui anche grazie a una di queste sessioni di moniton svolte in collaborazione con varie persone e con il grande contributo in questo caso anche dell'associazione Acubari sulla piattaforma la piattaforma moniton intanto è nata prima noi avevamo soltanto una serie di storie su dei progetti ma non un posto dove custodirli oggi abbiamo anche un sito che è quello www.moniton.it che sfrutta delle tecniche già utilizzate per moltissimi altri progetti in giro per il mondo la piattaforma Ushaidi e che sfruttando un'informatica diciamo già presente ci consente di custodire tutta una serie di preziosissime informazioni che chiunque ci può dare su questi progetti e qui vorrei lasciare la parola a Paola e a Chiara che attivamente hanno contribuito all'iniziativa di Moniton per farcela vedere io vi ho dato il contesto in cui si è svolta ma forse un esempio lo potreste far vedere voi Grazie concretizza questo concetto di Osimo di queste iniziative che nascono in parte dallo stimolo della pubblica amministrazione che ha formato i dati e poi c'è un'iniziativa dal basso che questi dati riutilizza però comunque si continua in questa collaborazione pertanto non si può orientare in una categoria né nell'altra ma in una categoria di pazzo e poi sì devo far vedere come stava ma sì dai fanno vedere tu Allora io mentre voi vi preparate per farlo vedere vi dico che queste iniziative l'idea di organizzare di promuovere delle iniziative di maratona per la città per andare a rintracciare i progetti catalogarli geolocalizzarli puntualmente dato che noi di solito in Open Coesione abbiamo solo il comune poter dare un indirizzo specifico e parlare di questi progetti l'abbiamo avuto all'interno del primo raduno di Open di spaghetti Open Data a Bologna a gennaio di quest'anno dove abbiamo promosso e organizzato una maratona di progetti su miglioramenti infrastrutturali di scuole e quindi siamo andati a visitare questi edifici scolastici l'abbiamo catalogati gli abbiamo dato un indirizzo e poi grazie a una serie di altre iniziative a Salerno e poi anche appunto a quelle importanti qui a Perugia e all'interno del Festival del Giornalismo ma anche qui a Bari si è sviluppato risfruttando la piattaforma Ushaidi un luogo dove custodire tutte le preziosi informazioni che erano uscite fuori da queste iniziative di monitoraggio e c'è oggi una mailing list e anche un blog che vi invito diciamo a guardare che è molto divertente e che anima queste opportunità di monitoraggio civico ma facci vedere tu che cosa ci dà il Moniton che opportunità ci dà tra l'altro prima di iniziare volevo dire anche che uno dei presenti qui Lino era proprio presente durante l'Open Data Day Lino Castrovilli mentre abbiamo è venuta per la prima volta fuori l'idea di creare una mappa con cui gioreferenziare questi progetti Moniton è una piattaforma di monitoraggio civico che utilizza i dati messi a disposizione da Open Coesiona ora qui c'è una cartina che permette di geolocalizzare in maniera precisa i vari progetti finanziati di cui parlavamo prima riguardo a questa schermata credo che l'aspetto più interessante che vorrei sottolineare è quello dei layer personalizzati che quindi consentono in un certo senso di indirizzare anche la passeggiata di monitoraggio per determinati tipi di tematica quelli che qui sono evidenziati insomma lo leggiamo tutti progetti con più finanziamenti progetti riutilizzo beni confiscati alle mafie innovazione sociale MIUR potenziamento strutturale dell'università quello di cui parlavamo prima allora vedete che cosa succede subito quando è un utente o una serie di utenti a guardare questi progetti che magari quelle categorie standardizzate che abbiamo utilizzato che è il corredo informativo di ogni singolo progetto in open coesione non è quello più interessante è vero che noi abbiamo tutta una serie abbiamo 13 categorie che descrivono il tema cioè quindi il settore su cui quelle politiche stanno investendo l'abbiamo visto ambiente anziani infanzia ricerca sviluppo eccetera ma può darsi che in realtà l'utente si è interessato proprio si interessa un progetto appunto un monitor fatto insieme con l'associazione libera è interessato a capire quali progetti tra questi che stiamo finanziando stanno riutilizzando i beni confiscati alla mafia allora è chiaro che noi dentro open coesione il dato amministrativo non potrà inglobare sempre la risposta a qualsiasi domanda ma il fatto di avere i dati a disposizione il fatto che sono open il fatto che uno possa quindi scoprirli seguirli e ricercarli consente a chi è interessato a fare qualcosa di diverso di costruirci del valore aggiunto questo è esattamente il caso i layer che sta dicendo Paola ognuno fa il suo layer in base a quello che è il suo interesse specifico tra l'altro appunto rispetto ai beni al layer sui beni confiscati e alle mafie la cosa è anche secondo me interessante perché i beni in questo caso i dati nazionali sono non dico oscuri però molto poco ricercabili allo stato di cose adesso perché i beni che cioè i dati dell'agenzia nazionale del tema di quella dedicata ai beni confiscati ci sono sono consultabili online però sono molto molto poveri e non possono cioè non danno diciamo l'idea globale di quello che invece rappresentano e secondo me un progetto come questo cioè l'evidenza dei progetti finanziati dei fondi di coesione su beni confiscati può essere un po' da traino rispetto ad un'esigenza di trasparenza sui dati totali dei beni confiscati che c'è e quindi magari è un modo per dare visibilità anche soltanto su una piccola parte di questi di questi beni di modo che un cittadino può chiedersi ma quindi poi tutti quali sono cioè anche non lo so può essere un espediente per liberare altri dati in un'operazione come quella di poi in coesione che pur riguardando una parziale una parte parziale cioè una parzialità delle politiche dei vari campi può comunque essere appunto da traino rispetto ad altro allora ammettiamo che un cittadino voglia creare un report di monitoraggio innanzitutto bisogna partire dai dati di open coesiona e quindi prendere il cup proviamo ad andare su crea un report ora esiste un tipo di report standard quindi con il titolo il codice unico del progetto di cui parlavamo prima per permettere il collegamento con la banca dati di open coesiona e poi una parte più descrittiva in cui si può costruire appunto una storia riguardo al progetto e a quello che il singolo cittadino ha visto del progetto un gruppo di cittadini e proprio a questo fine è anche importante la possibilità di caricare video e fotografia per visualizzare anche l'andamento del progetto ed inoltre vi è una parte che credo sia la più interessante quella soluzione di idee da proporre sfide e difficoltà riscontrate perché questa sarebbe almeno nell'idea della piattaforma la parte di feedback che poi dovrebbe ritornare alla pubblica amministrazione per indirizzare meglio o la prosecuzione stessa del progetto oppure i successivi programmi politici perché ovviamente sono i beneficiari delle politiche di coesione che qui hanno la possibilità di rilasciare un giudizio su come le politiche di coesione si stanno svolgendo e quindi in questa maniera possono contribuire attivamente alla governance e ora questo appunto è il tipo di report standard poi ne stiamo calibrando degli altri a seconda del tema del progetto stesso per esempio quest'estate abbiamo pensato ad un tipo di scheda di monitoraggio che potesse adattarsi non riesco che cosa scusate mi faccio così dico ok ah non avevo nessuna barra per esempio riguardo alle opere per la mobilità è logico che è diverso per esempio da un progetto fatto su un bene confiscato per cui abbiamo inserito alcune informazioni più specifiche per esempio come si possono pagare i biglietti servizio di biglietteria funziona bene come si possono consultare gli orari in maniera anche da raccogliere un tipo di informazione più filtrata e più utile rispetto ad una valutazione su questo tipo di progetto stasso allora farò vedere un rapport un ultimo quello che non è benvenuto che si fa e l'ambito di università si allora si carica questo rapport di monitoraggio e quindi poi spetta a chi si occupa del back end della piattaforma di valutare se questo rapport corrisponde a vero oppure no e quindi siamo noi che poi verifichiamo eventualmente le informazioni vengono verificate le informazioni e poi scusate sono un po' emozionata no no benissimo paola stai proprio dando l'idea cioè voi vi state prendendo un grande impegno perché quando uno ha un sito qualsiasi sito abbia chiaramente ha un po' diciamo così di doveri di animare questo sito e allo stesso tempo anche di far sì che il sito non venga utilizzato diciamo a sproposito cioè sul web se non c'è mai una moderazione del dibattito rischia anche che ci possono essere fenomeni anche diciamo così soltanto di hackeraggio dove qualcuno inizia a scrivere dei report assolutamente diciamo insensati senza prendersene ad esempio la responsabilità di quello che sta dicendo per cui è chiaro che chi sta facendo questo ottimo lavoro proprio interessantissimo di animare questa piattaforma del moniton si sta in qualche momento ponendo il problema ci sono cittadini vari di vario genere che stanno magari fotografando delle opere che stanno aiutandoci a georeferenziarle in maniera puntuale che ci stanno dando dei feedback sui progetti vi sta facendo ad esempio vedere una lista di questi report che sono stati caricati e c'è un lavoro minimo di in qualche modo pur dando quelle informazioni visibili a tutti nel momento stesso è automatico in tempo reale se voi adesso caricate oggi un report anche dove non scrivete nulla soltanto il vostro nome e cognome qui esce fuori diciamo sostanzialmente questa informazione allora chi modera la piattaforma del moniton si sta anche prendendo la beca di scorrerseli tutti e di cercare di indicare laddove c'è per esempio chi si sta prendendo la responsabilità di quello che sta dicendo delle dichiarazioni che sta facendo e laddove ci sono delle informazioni puntuali ad esempio delle informazioni sul fatto di come puoi pagare il biglietto non biglietto eccetera eccetera delle altre informazioni stanno cercando di fare delle verifiche che consentono in qualche modo di rendere appunto il report ancora più significativo questo diciamo è il senso pur non impedendo a chiunque di scrivere quello che vuole questo diciamo è proprio il valore aggiunto di queste operazioni peraltro perché da una parte l'accesso è aperto a chiunque perché questo è sul web chiunque ci può caricare delle informazioni chi modera il sito si sta prendendo una responsabilità in qualche maniera di aiutare a moderare questo dibattito nel migliore delle condizioni senza cassare nessuno ma laddove è possibile verificando in qualche maniera che le informazioni date abbiano dei riferimenti puntuali ci sono rimandi a tanti altri siti per esempio da cui queste informazioni vengono da altre fonti che possono essere nell'esempio dei trasporti dell'agenzia di trasporto laddove sono gli orari queste cose e così via di seguito e anche di garantire che chi sta facendo delle informazioni abbia preso responsabilità per le informazioni che sta facendo poi magari il fatto di sistematizzarle in questo schema del report è anche pensato in funzione di un'eventuale futura raccolta di questi dati perché possono essere utilizzati quindi magari il fatto di sistematizzarle in uno schema ben preciso potrebbe essere utile anche in futuro in questo senso ora il report per quanto riguarda il trasporto pubblico utilizzare quelle voci da spuntare adesso non le ritrovo comunque quelle voci ad esempio è acquistabile il biglietto online eccetera eccetera potrebbero essere integrati in OpenStreetMap in maniera abbastanza automatica perché inserire informazioni in quella piattaforma richiede che queste vengano inserite attraverso dei dati strutturati in chiavi e in tag e queste appunto potrebbero diventare delle tag ad esempio come si possono pagare i biglietti e tutte le altre diciamo tutti gli altri item che ci sono sì per cui fare questo tipo di lavoro potrebbe essere riutilizzato anche per quanto riguarda altre piattaforme e poi volevo precisare anche che per esempio il meccanismo di verifica che ora diciamo questa struttura redazionale in qualche modo ha questo funzionamento redazionale in realtà sulla piattaforma è anche diciamo legato ad un meccanismo di rating sulla fiducia che ogni utente della piattaforma dà ai progetti ovviamente essendo all'inizio adesso questo tipo di meccanismo non è utilizzabile non è possibile utilizzarlo aspetteremo magari in seguito vedendo come procede insomma l'utilizzo della piattaforma per capire se poterlo inserire con questo tipo di funzione una sorta di fact checking dei monitor in qualche modo però appunto è una cosa che potremmo fare in futuro e che adesso non è praticabile anche perché Oshady essendo nata appunto per monitorare e verificare stati di emergenze a questi meccanismi anche molto crowd che però per come è adesso insomma strutturata la piattaforma non sono ancora utilizzabili dipenderà da come essa si svilupperà in futuro insomma Allora questo è un esempio di report di un progetto fatto su un bene confiscato in Campania e quindi sono state caricate le foto c'è anche un video che è stato realizzato ovvero la parte più descrittiva in cui praticamente appunto viene riportata la storia di questo progetto fatto su un terreno confiscato alla Camorra dove è stato realizzato un parco con una sezione in memoria delle vittime della criminalità quindi poi è stato riportato il CUP ora questa è sempre una scheda calibrata perché tra le schede che abbiamo calibrato c'erano il report su opere per la mobilità e quelle sui beni confiscati quindi queste sono le voci che per adesso abbiamo inserito in questo tipo di scheda di monitoraggio tipologia bene confiscato soggetto gestore del bene eccetera eccetera e poi la parte in cui diciamo il cittadino che ha avuto modo di monitorare questo progetto evidenzia quali sono le principali difficoltà e carenze riscontrate eventuali soluzioni rispetto alle stesse che li ha potuti individuare identikit della fonte ruolo della fonte di informazione rispetto al progetto allora io penso che anche questo volendo un giorno sia una fonte per il data journalism immaginate magari ci può essere l'interesse di un qualche giornalista di fare una storia proprio sull'utilizzo dei beni confiscati dalla mafia allora qui dentro ci sono tutta una serie di informazioni giornalista naturalmente non è che si accontenterà soltanto di vedere la storia che è stata raccontata dall'utente che ha visitato il museo all'aperto che vedete qui che Paola ci ha mostrato ma potrà sicuramente prendere spunto dalle descrizioni che qui vengono offerte che provengono da persone che sono andate sul luogo per capire su quali progetti diciamo puntare la propria esperienza di racconto di una storia sicuramente qui dentro dal punto di vista micro esistono tantissime storie che già vengono in parte raccontate e il fatto che esiste il supporto multimediale per cui si possano vedere le storie raccontate per esempio qui dagli stessi protagonisti sono stati intervistati in questo video alcuni proprio dei protagonisti del progetto è un ulteriore strumento che può essere molto interessante per un data journalist che va in giro a cercare delle storie micro sui singoli progetti non so se qui funziona l'audio mi sa di no ma insomma non importa questo ve lo potete diciamo vedere anche da casa sostanzialmente questo breve video è una breve intervista fatta non da un giornalista ma da una serie diciamo di cittadini che sono andati in giro a guardare questi progetti quindi forse non è fatta secondo l'ottica che la farebbe un giornalista ma sicuramente da una serie di spunti sul progetto stesso ma non ti preoccupare di durare troppo poco è uno spunto diciamo per invitarvi voi che siete qui ma anche chi guarderà poi a casa di andarsi a vedere i contenuti delle storie che già si stanno raccontando su alcuni di questi progetti grazie all'intervento intanto appunto di associazioni come quella di Acubari quella di Libera che ci ha avuto questa collaborazione per per esempio geolocalizzare in maniera puntuale tutti i progetti di finanziamento che riguardavano anche beni confiscati dalla mafia ma anche tutta una serie di altri diciamo cittadini che potrebbero liberamente decidere per propria iniziativa di darci delle informazioni sui progetti che incontrano per strada io ad esempio stasera caricherò un breve monito su questo progetto qui su un pezzetto del progetto di formazione di Arti Puglia per lasciare alcune informazioni su questo percorso che è stato fatto sono scordata di dire una cosa importante che su uno stesso progetto possono essere caricati nel tempo più il rapport di monitoraggio e quindi appunto questa è un'altra maniera di seguire l'andamento del progetto non è detto che su un progetto ci debba essere solo un unico rapport ma nel tempo si può verificare come stia proseguendo cioè come stia andando avanti e ovviamente sì anche da più persone diverse può essere fatto io pure vorrei dire un'altra cosa su Moniton per chi è interessato che ha la caccia di storie su questi progetti chi non si accontenta della descrizione dei dati che vengono dati su questi progetti da Open Coesione si iscriva alla mailing list di Moniton per ricevere gli aggiornamenti diciamo automatici ogni volta che c'è una nuova storia ogni volta che c'è un nuovo inserimento nel blog contribuisca diciamo a questo progetto molto interessante questa sperimentazione di una partecipazione pubblica al monitoraggio dei progetti vi dico quello che a me è piaciuto di più è una cosa che appunto è stata fatta tramite il Moniton che ho trovato molto divertente che vi vorrei mostrare è il Moniton così detto è sul vostro blog se adesso lo ritrovo se mi aiutate a trovarlo è il Moniton di Sergio Rizzo esatto è uno dei primi eccolo qua eccolo qua blog in italiano allora questo è l'elenco dei vari blog a me è un blog che è piaciuto molto che ho trovato diciamo geniale è il blog che racconta il Moniton di Sergio Rizzo Sergio Rizzo come voi sapete è un grande giornalista italiano che ha scritto lo troverete anche in rete sulla rassegna stampa di Open Coesione ha scritto un articolo utilizzando i dati di Open Coesione sul Corriere della Sera mi sembra in questo articolo diciamo denunciava una serie di criticità ecco Sergio Rizzo il Moniton di Sergio Rizzo descriveva una serie di criticità di questi investimenti di queste politiche insomma denunciando tutta una serie di malfunzionamenti a suo modo di vedere di queste politiche e citando tutta una serie di progetti che appunto sono rassegnati sulla piattaforma di Open Coesione e il gruppo che modera la piattaforma www.moniton.it ha quindi fatto il Moniton di Sergio Rizzo ovviamente Sergio Rizzo non è stato così cortese lui stesso di farlo il Moniton per noi lo ha fatto in qualche modo scrivendo un articolo sul Corriere della Sera e c'è qualcuno che è andato a rivedere i singoli progetti che Sergio Rizzo diciamo aveva commentato all'interno del suo articolo a mapparli sul Moniton e a darci delle informazioni diciamo in più e questo l'ho trovato molto divertente ci consente per esempio di andare a individuare proprio una serie dei progetti che Sergio Rizzo ha denunciato come essere dei progetti che erano in una situazione difficile una serie di progetti incagliati che non stavano più andando avanti allora con lo strumento del Moniton ecco un'altra categoria che non è una categoria di puri dati ma di interpretazione di questi dati l'elenco dei progetti ad esempio questo potrebbe essere un layer che sono per qualche motivo bloccati questo potrebbe essere un tema di interesse per il Moniton sì volevo anche dire che tra l'altro in home ci sono i feed feed RSS che prendono dalle notizie pubblicate sui giornali insomma online le news in tempo reale sui progetti c'è appunto è un feed che ricerca alcune parole chiave in relazione ai progetti di open coesione per cui di là è anche possibile magari vedere i progetti su cui ci sono delle criticità contingenti quel giorno oppure l'inaugurazione di una mostra finanziata con piuttosto che appunto un problema un blocco eccetera come dicevi tu allora per esempio qui c'è uno dei progetti che nel Moniton di Sergio Rizzo del suo personale Moniton sono stati individuati come un progetto incagliato il nuovo impianto turistico di Marina di Stabbia e allora questi sono stati individuati uno può andare a vedere di che si tratta e questo potrebbe essere un progetto interessante da seguire per cercare di capire se finalmente un giorno si disincaglia ci sono un paio di progetti che sono elencati da Sergio Rizzo che sono quello del oddio ho perso adesso insomma quello del collegamento Bari Aeroporto su cui il rapporto di monitoraggio è stato realizzato e la metropolitana leggera di Sassari che in fase di preparazione insomma comunque un po' di materiale è stato raccolto e come dite voi avete detto prima la cosa interessante sarebbe avere all'interno del monitor non soltanto una storia ma 10 100 storie su questi stessi progetti per poter confrontare in qualche modo i punti di vista di tante persone diverse che questi progetti li hanno attraversati allora tornando a una serie di spunti ringraziando a Cubari per la loro grande investimento nel monitor e nella sua moderazione vi voglio segnalare altri due iniziative similari che sono delle iniziative che coinvolgono sono delle iniziative non italiane delle iniziative in altri paesi che però hanno in comune il fatto di monitorare alcuni progetti dei fondi strutturali europei a livello in questo caso diciamo transnazionale non soltanto per l'Italia che forniscono anche questi degli spunti interessanti su come diverse collettività si organizzano attorno ai dati aperti per poter contribuire alla loro causa quando sono dei gruppi specifici di interessi è il caso ad esempio di questo progetto well spent EU dove il WWF friends of the earth e altre organizzazioni di stampo di difesa dell'ambiente si sono riunite per creare dei report proprio dei report di monitoraggio di progetti che secondo loro sono degli esempi positivi di finanziamenti europei a differenza a me questo progetto diciamo piace particolarmente non soltanto perché lo trovo un buon esempio di una campagna internazionale per migliorare le politiche di coesione attraverso l'uso dei dati e attraverso le iniziative di monitoraggio civico ma anche perché per una volta invece di raccontare i disastri dei fondi strutturali individua le buone pratiche e secondo me pure questo diciamo magari ogni tanto è una buona cosa darci degli esempi di cose fatte meglio e non soltanto darci degli esempi di quelle che non funzionano allora fatte meglio ovviamente dal loro punto di vista questo è un gruppo appunto di associazioni attive in campo ambientale loro individuano c'è un breve video questo ve lo potete vedere in giro per l'Europa ce n'è uno anche in Italia la mappa ha un problema di visualizzazione ma ce n'è uno anche in Italia e c'è qui una visualizzazione in mezzo al mare che non è ma è un problema di visualizzazione insomma loro però individuano quindi una serie di progetti quelli italiani dovrebbero stare tutti già in open coesione quindi si potrebbe fare anche un link tra questa piattaforma e quella di open coesione i progetti che hanno appunto secondo loro un impatto ambientale tutto sommato positivo e non quindi delle buone pratiche eccolo qua straordinariamente viene citato il progetto di 400 milioni di euro spesi per il rinnovamento dell'arteria centrale della metropolitana di Napoli come un progetto fra virgolette amico dell'ambiente che diciamo nella sua pianificazione e nelle sue realizzazioni hanno dato degli effetti positivi loro vorrebbero che si facessero più progetti di quel tipo in giro in Europa con i fondi strutturali europei e allora danno sulla base dei loro studi e delle loro stime una serie di informazioni che tutti noi vorremmo sapere per qualsiasi progetto appunto di nuovo ad esempio di grande mobilità quanti tonnellate di riduzioni di emissioni ci sono state grazie a questo progetto delle cose difficili da misurare per cui chi si occupa di questo settore magari ha degli strumenti su cui riesce tramite delle proprie metodologie a fare delle stime diciamo migliori e quindi danno tutta una serie di informazioni questo well spent EU c'è un altro esempio di progetto ce ne sono diversi io qui ve ne ho selezionati due per farvi vedere che in giro per Europa se ne fanno di tutt'altro tipo che risfrutta di nuovamente dati come quelli di open coesione sui fondi strutturali europei questo è un progetto di un gruppo slovacco questo gruppo è interessato a un esercizio diciamo di trasparenza per cercare di capire quali sono le aziende che più intercettano i finanziamenti questo vuol dire lavorare moltissimo per noi su quelle informazioni che riguardano i soggetti attuatori capire quali sono le imprese private che ricevono i finanziamenti da questi progetti e quindi hanno loro un loro motore di ricerca che individua i soggetti probabilmente hanno pulito i dati più di quanto siamo riusciti a pulirli noi quindi fanno un lavoro aggiuntivo e consentono in questo modo di cercare di capire chi intercetta quanti soldi questo è un altro tema di solito di grande interesse per chi si occupa di queste politiche di questi finanziamenti probabilmente loro possono accedere a un registro delle imprese in open data puliscono le informazioni c'è un valore aggiunto un lavoro che viene fatto con tante fonti perché non esistono liste no esistono registri ma spesso i registri non bastano quando voi andate a vedere anche i dati più puliti sui soggetti vedrete che loro sono accompagnati ad esempio da un codice fiscale da una partita IVA un campo che non è sempre riempito quando c'è però una stessa agenda può avere più partite IVA perché è geolocalizzata in diversi punti ha un'organizzazione diversa quindi mettere tutte queste cose insieme comunque è un lavoro non automatico richiede di solito l'incrocio di diverse fonti una certa elaborazione di dotarsi di uno schema metodologico per poterli prendere diciamo tutti vi segnalo un'altra fonte che non è una fonte diciamo che ha un proposito dal basso come queste prime due che vi ho mostrato quelle delle associazioni ambientaliste piuttosto che di questa associazione slovacca ma è l'organo diciamo ufficiale di controllo e di monitoraggio finanziario dei soldi spesi dall'Unione Europea la Corte dei Conti Europea perché vi indico questa come una fonte interessante da seguire la Corte dei Conti Europea ha tutto un suo diciamo è uno strumento diciamo istituzionale importante ufficiale di audit dei progetti quindi non è un'iniziativa dal basso è un'iniziativa diciamo dall'altissimo ma può fornire a chi vuole avere degli spunti su quali sono le storie interessanti da raccontare in ottica di data giornalismo interessanti non soltanto perché la Corte dei Conti Europea magari vi può dare dal punto di vista delle informazioni di fondi strutturali europei una panoramica ampia del contesto in cui si svolgono e connettere le vostre iniziative sull'Italia con iniziative similari in giro per l'Europa ma anche perché a volte vengono diciamo esaminati singoli progetti quindi questa può essere un'altra fonte di informazione specifica sui progetti che state andando a monitorare adesso arriviamo diciamo al cuore della lezione di oggi che non è soltanto o non è tanto quella di avere una panoramica di open coesione quanto di iniziare ad utilizzare questi dati oltre ad avervi dato una serie di spunti di strumenti esistenti per diciamo andare a parlare delle storie che sottostanno questi progetti il cuore di oggi sarà quello di scaricare i dati e di utilizzarli e quindi per fare questo vorremmo fornirvi una serie di dritte sulle codifiche e sulla struttura dei dati ma Chiara prima vuol dire qualcosa volevo semplicemente dire se prima di iniziare questa parte volete fare una pausa caffè un attimo per prendere un po' d'acqua va benissimo così poi entriamo nel cuore dove bisogna essere più attenti perché questo vi consentirà poi di utilizzare gli strumenti Google Refine e Open Office che stiamo per utilizzare dopo con degli esempi quindi mi pare un'ottima idea grazie grazie a tutti grazie a tutti